adesso facciamo giusto una partita di prova così prendi confidenza con facciamo così che ti gioco ti gioco questa come prima mossa ci sono dei consigli oppure posso muovere il pedone che mi pare a me allora tendenzialmente io consiglio di iniziare con il pedone davanti al re di due passi perché ti apre la strada all'alfiere campo chiaro quello vicino al re e poi apre anche la strada alla donna non è altrettanto importante però è più importante che la strada all'alfiere perché diciamo in apertura che sarebbe la prima fase del gioco quello che vorresti fare è cercare di sviluppare più velocemente possibile i pezzi e mettere al sicuro il tuo re quindi se tu apri col pedone davanti al re apri la strada all'alfiere poi puoi spostare il cavallo ma tanto quello salta quindi potevi comunque farlo muovere e di conseguenza poi puoi arroccare velocemente questa è un po' questa è un po' ah ok io ho la strada ok ok e adesso vedi sviluppo un cavallo ma ti sto attaccando un pedone no? quindi in teoria andrebbe difeso proprio per evitare che io possa catturarlo no? perché il cavallo muovendosi può mangiare in E4 quindi per me è più importante difendere questo pedone che continuare a portare avanti i miei pezzi sì 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 assolutamente anche perché il pedone svolge una funzione importante lì cioè controlla delle case centrali importanti no? la casa D5 e la casa F5 io però non ho modo di difendere questo pedone perché una volta che è qua tu me lo mangio comunque allora come ti dicevo prima no? c'è il discorso del valore dei pezzi no? quindi se tu difendi il pedone con un qualsiasi altro tuo pezzo cosa succede? che io non posso più mangiarlo perché mangiandolo guadagnerei un punto diciamo dato dal pedone mentre ne perderei tre se tu metti il cavallo in C3 sì il cavallo quello che si trova in B1 lo metti in C3 sì quello che sta ancora a casa diciamo lo metti in C3 sì sì quello che succede è che il cavallo difende il pedone in E4 prova a farla così vediamo cosa succede ok adesso vedi se io mangiassi il tuo pedone in E4 mangierei un punto mentre tu potresti mangiare il pedone scusami il cavallo mio potresti mangiare no? e quindi guadagneresti tre ok e questo è il senso e generalmente andrei a stare peggio no? perché perderei un pezzo per un pedone non conviene a meno che non ci siano altre cose strane sì non avevo ragionato al fatto che arrivassi fino là il mio cavallo certo per questo è fondamentale capire bene come si muovono i pezzi no? perché altrimenti cioè questo tipo di mossa magari è difficile da capire no? cioè non è difficile da prevedere certo in questo modo tu se ci pensi cosa hai fatto? hai difeso un pedone centrale e hai anche sviluppato un pezzo no? quindi hai fatto due cose importanti con una mossa quindi hai fatto sicuramente una buona mossa ok io adesso ho giocato questa mossa per sviluppare il mio alfiere e poi poter arroccare corto come diciamo prima mi dico anche io sto facendo questa cosa qua no? ok diciamo io ho spostato l'alfiere di là perché voglio mettere al sicuro il re no? siccome tu in teoria puoi mettere già al sicuro il re arroccando corto la mossa di alfiere che hai fatto adesso non era esattamente necessaria no? indispensabile in questo momento la legge la devo liberare e in realtà potrebbe convenirti arroccare dal lato diciamo alla tua destra dove c'hai già la strada libera arroccare come farlo subito sì sì perché comunque metti al sicuro il tuo re e porti in gioco la torre quindi fai due cose con una mossa il re se sta al centro di solito è molto facile che venga attaccato beh non posso dare indietro quindi faccio il prossimo turno sì 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 io adesso vedi arrocco per esempio stessa cosa puoi fare tu spostando di due e tre ok vedi ha fatto tutto in automatico con l'arrocco comunque sì ok allora cosa facciamo qui? diciamo che ok diciamo che continuo a sviluppare i pezzi ok diciamo faccio una cosa facciamo una cosa modesta no facciamo questo facciamo quindi ok se noti adesso ogni mossa che ho fatto mi ha fatto sviluppare un pezzo non mi ha permesso di sviluppare un pezzo sì allora alfiere e cavallo valgono uguali quindi se tu mi mangi il cavallo io ti mangio l'alfiere esatto quindi non è un problema davvero però io con il mio cavallo posso andare avanti allora fai conto che noi siamo nella fase che si chiama apertura non la fase iniziale di solito si considera terminata l'apertura quando i pezzi sono stati tutti sviluppati il resto l'ho messo al sicuro e diciamo hai messo in comunicazione le torri cioè cosa vuol dire? che le due torri si guardano a vicenda no? sono diciamo ok quindi così esatto se sposti la donna per esempio cioè comunque metti in comunicazione le torri quindi poi hai modo no? di sfruttare la coordinazione tra questi due pezzi cioè le torri sono dei pezzi che sono forti molto quando sono coordinate quindi questa sicuramente è una buona mossa ok io allora provo a fare questa di solito questa è la fase in cui c'è un punto di domanda su cosa bisogna fare no? il consiglio che do generalmente è questo cioè portare comunque i pezzi per giocare al centro della scacchiera perché abbiamo detto che è la zona nevralgica cioè dove dovresti concentrare tutte le tue energie no? io vedo in questa posizione che il bianco dovrebbe secondo me lavorare per riuscire a spingere il pedone in D4 perché giocando la mossa pedone D4 guadagni dello spazio al centro e inizi a contestare diciamo subito forse non è proprio il massimo lo mangio così perché esatto lo posso mangiare quindi questo è sicuramente un ok diciamo che lo mangio giusto per farti vedere eh certo se avessi messo prima per esempio la torre a controllare la casa avessi messo la torre in D1 in modo da controllare la casa D4 avresti potuto poi spingere il pedone senza problemi certo perché se no io ci mangio ho già avuto il pedone esatto cioè mettendo un altro pezzo tu puoi riprendere ok lo puoi fare adesso il problema è che adesso io col mio pedone sto attaccando un tuo pezzo se vedi cosa sto attaccando cazzo il cavallo esatto non posso andare indietro niente troppo tardi sì non ti preoccupare però non lo mangio ti lascio il tempo di redimerti però ovviamente sì bisogna sistemare la situazione ok diciamo che faccio una mossa e ti aiuto cioè faccio torre qua ah ok se mi fa fare un turno in più esatto e va bene allora dicevamo tu mi stai attaccando il cavallo io per forza devo o ti mangio il pedone qua ma non posso ah sì posso con il mio cavallo posso il mio cavallo sì prima di esatto ti dicevo no prima di diciamo di mangiare un pezzo dell'avversario una cosa una buona norma è capire quanti pezzi tuoi attaccano la casa cioè il pezzo dell'avversario e quanti pezzi invece del tuo avversario lo difendono quindi in questa circostanza no il pedone di 4 del nero è difeso da me quante volte con quali pezzi il tuo pezzo è difeso da un cavallo e basta ok vero vero sì sì è giusto mentre tu con quanti pezzi tu hai attacchi due pezzi come una torre e un cavallo perfetto siccome tu hai i più pezzi che attaccano allora riesci a mangiarlo posso mangiarlo certo posso mangiarlo perché se no sì 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 ok secondo te conveniva mangiarlo di cavallo il pedone o di torre di torre perché la spostavo verso il centro in realtà no hai fatto bene perché mangiando di cavallo hai mangiato col pezzo che vale meno ah perché di cavallo vale meno però non valgono uguali se tu avessi mangiato con la torre io avrei mangiato la tua torre dando il mio cavallo perché il tuo cavallo è sacrificabile certo sì rispetto a una torre generalmente sì quindi in realtà la mossa è stata giusta vabbè dai cambiamo un po' di pezzi giusto per semplificare la posizione tanto è una partita giusta per tipo il tutorial per prendere confidenza con il gioco sì 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 ah io ti posso allora da un lato ti posso mangiare l'alfiere e tu mi mangi con il cavallo quindi non te lo posso fare scherzavo ti posso mangiare con la torre e nessuno attaccherebbe la mia torre per cui ti mangio il cavallo ok c'è anche un altro motivo cioè che il mio cavallo attaccava la tua donna quindi se avessi mangiato l'alfiere mio in g4 io piuttosto che riprendere l'alfiere avrei mangiato la tua donna che ovviamente vale di più quindi mi sarebbe convenuto certo ok quindi vabbè diciamo è sempre vedere chi attacca cosa sì sì questa è una parte fondamentale perché molto spesso all'inizio si lasciano i pezzi in presa quindi è normale che qualcosa sfugga ok io continuo a mangiarti i pezzi cioè a cambiare quando diciamo quando io do un pezzo a te tu dai un pezzo a me valgono la stessa cosa quello che stiamo facendo è un cambio cambio di pezzi alla pari quindi non si dice scambio si dice cambio di pezzi ok allora facciamo un cambio di pezzi io ti mangio col cavallo all'alfiere tutto l'alfiere non ha difeso da niente il mio cavallo non difende nessun mio pezzo in questo momento per cui ok perfetto va bene va benissimo allora io continuo con la mia idea di prima se noti ho giocato pedoni in A6 poi ho messo la torre in B8 perché volevo giocare questa mossa qui adesso il mio pedone è supportato ben due volte certo nella spinta quindi voglio guadagnare spazio a destra cioè non è sbagliato cambiare alla pari di solito si fa quando quando ti conviene per un certo tipo di allora io ti posso da un lato ti posso mangiare però poi tu mi rimangi easy che altre opzioni ho qua posso portare ah tu comunque mi mangi cioè tu in ogni caso mi mangi il pedone in ogni caso inoltre il tuo cavallo attacca il mio pedone che è difeso sempre dalla 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 torre quindi non è un problema è anche difeso dalla donna no ti nota che la tua donna svolge un ottimo ruolo difensivo puoi anche completamente fregartene della mia minaccia e continuare a sviluppare per dire cioè visto che non sto minacciando ok questa ok diciamo che ci può stare ok voglio provare a vedere io ovviamente un po' testo no faccio un po' di per vedere come reagisci quindi alla fine mi mangi no l'hai mandato avanti non l'hai mandato avanti ho spinto il pedone esatto in questo momento puoi mangiare l'alfiere sì esatto quindi secondo te cosa conviene fare allora l'alfiere vale come la torre l'alfiere vale 3 e la torre 5 quindi la torre vale 5 ah la torre 5 sì l'alfiere vale meno la torre tu o me la mangi col pedone o me la mangi con la torre tu me la mangi con la torre aspetta scusa con la torre come posso io devo difendere no dico l'alfiere dico se io ti mangio il tuo pedone ok quindi se tu mangi con l'alfiere il mio pedone ok io te lo posso mangiare con la torre vero? perché se muovo il pedone qua ti metto in pegare il cavallo non succede ah posso muovere la torre qua a B1 scusa ma sì a B1 quindi in B1 quando muovi un pezzo verso una casa c'è in in nella casa in per qualche motivo non te lo so dire perché cioè è come se lo mettessi dentro da casa quindi in B1 allora il problema è che il mio pedone attacca il tuo alfiere no? quindi se lo mangi se mangi il mio pedone io ti rimangio l'alfiere con la torre e vai a stare peggio no? perché mi hai dato un alfiere in cambio di un pedone quindi di solito l'alternativa è o attaccare qualcosa di più valore dell'alfiere ma non puoi in nessun modo oppure puoi tornare indietro con l'alfiere ah cazzo non ce l'ho pensato a questa cosa ecco non ce l'ho proprio pensato adesso quindi il tuo alfiere è tornato al sicuro e anche su una buona casa questa si chiama la diagonale su cui si trova si chiama grande diagonale no? perché la diagonale è più lunga della scacchiera ed è lunga 8 case l'alfiere adesso si trova comunque su una buona casa adesso io provo a fare una cosa per vedere sempre come reagisci che è questa bisogna capire perché ho fatto questa mossa cioè cosa cosa sto facendo con questa mossa h2 dici no? che è difeso dal tuo re sì quindi non servirebbe a niente puoi avvicinarti qua e ti mangerai con la torre vero in f2 sì avevo capito sì hai bloccato il mio pedone che non può andare avanti questo è fatto sì ok diciamo i pedoni davanti al re è difficile che li muovi i pedoni g e h quindi cioè ok lo puoi fare però non è questo il caso quindi non è tanto questo se noti con la mia mossa di cavallo in realtà ho liberato la strada all'alfiere che era la cosa che devo mostrarti con la mia torre chiaramente esatto esatto quindi devo muovere un passo in avanti la torre ma generalmente la torre è un pezzo che non vuoi portare troppo in avanti perché quando porti troppo in avanti la torre è più facile che venga attaccata no per esempio io potrei sarebbe stato meglio tornare indietro ma anche per un altro motivo che ti diventerà chiaro troppo pochissimo però per esempio io qui potrei giocare la mossa pedoni in e6 cioè la mossa e6 di solito si dice quando dico e6 intendo dire pedoni in e6 invece generalmente quando indico la mossa di un pezzo tipo la torre dico torre in e il nome della casa quindi in questo caso torre in d5 o torre d5 per esempio è una mossa che attena ha fatto quindi se io giocassi la mossa e6 attaccherei la tua torre quindi ti costringerei a tornare indietro però io gioco una mossa ancora più forte che questa qui così ti faccio vedere quello che si chiama tema tattico cioè adesso con la mia mossa di cavallo sto attaccando più pezzi contemporaneamente tuoi cosa sto attaccando la regina e la torre la torre quale quella in f1 quella in f1 ma non tutte tre pezzi mi sto attaccando esatto esatto sto attaccando tre tre pezzi questa qui questa mossa qui che attacca più pezzi contemporaneamente si chiama forchetta ok ed è uno dei temi tattici di base dove tattica che cos'è è fondamentalmente l'insieme delle possibili combinazioni di uno più mosse che ti portano in vantaggio così tu mi costringi a sacrificare uno dei tre esatto esatto perché io qualcosa lo devo mangiare perché non puoi difendere tutto insieme in questa posizione quindi di solito cos'è che dovresti difendere secondo te la regina dovresti difendere la regina perché è il pezzo più forte e fa un passo avanti e un dietro allora se vai in avanti la casa c3 devi controllare esatto quindi indietro perfetto ok allora io devo scegliere cosa mangiarmi ma non so se essere proprio bastardo dai facciamo un po' no dai facciamo i buoni facciamo perché invece perché sei bastardo perché cioè nel senso è chiaro che potrei giocare le mosse migliori magari no però non ha senso mi sembrava troppo senza motivo ok adesso ti attacco quando stai portando avanti un attacco mangiare la torre sarebbe stato un po' come accontentarsi quello che vuoi fare l'obiettivo non è guadagnare una torre no l'obiettivo è dare scacco matto quindi quello che fai generalmente quando c'è un attacco che va avanti è cercare di continuare ad attaccare portando in gioco gli altri pezzi finché non c'è un modo per dare scacco matto quindi avresti lasciato il like il cavallo avevi lasciato il cavallo e avevi sviluppato la donna in modo da farla entrare in gioco per dare una mano al cavallo e provare a dare fastidio al tuo re io sarei solo costretto a mettere in salvo uno dei miei pezzi un attacco orre eh sì però diciamo la mia idea era proprio attaccare il re quindi certo certo queste sono cose che si imparano pian piano col tempo comunque tocca a me giusto sì adesso tocca a te ho giocato la mossa e sei come ti dicevo perché mi puoi mangiare alla torre pienamente ma se io ti mangiassi il pedone davanti a me cosa succede nessuno lo difende tranne la regina davanti a te esatto e quindi quando mangi io sacrificherei sacrificherei la torre perché il pedone non si fa esatto no a questo punto me ne torno indietro qua c'è il tuo alfiere me ne torno qua ok esatto quindi giusto hai evitato la casa di 4 perché c'era il mio alfiere questa è una buona cosa che hai fatto ok allora a questo punto io devo capire come continuare no perché se vedi tutti i pezzi praticamente nella prima traversa no sono chiusi nella traversa di partenza quindi devo provare a capire come portarli in gioco ovviamente ok facciamo così sviluppiamo la donna quindi se tu guardi adesso sotto il mio nick c'è un più 2 se noti ci sono dei pezzi e un più 2 cosa indica questo più 2 se tu ci pensi prima ti ho dato il mio cavallo e mi sono preso una torre quindi ti ho dato un pezzo che vale 3 e mi sono preso un pezzo che vale 5 no quindi ho un più 2 quindi quando vedi quel numerino lì indica di quanti punti sei in vantaggio comunque questa regina in questo momento non mi sta attaccando nulla vero io ci metto comunque davanti un cavallo perché lei potrebbe andare dritto accanto al mio re giusto diciamo non lo posso fare adesso perché comunque perderei la donna non la mangerei semplicemente la mia donna però comunque portare il pezzo il tuo cavallo verso il centro non è una cattiva idea in generale perché se no un'altra cosa che posso fare a caso è muovere la mia donna davanti al mio cavallo sì anche questa è un'idea certo però c'è un piccolo problema su quella mossa che lasci il tuo alfiere indifeso lascio il mio alfiere indifeso dal tuo alfiere esatto e allora niente metto il cavallo qua che comunque me lo può maggiare il tuo alfiere sì però sarebbe un cambio ancora una volta perché alfiere e cavallo valgono la stessa cosa quindi per adesso non mi conviene farlo più che altro vorrei portare un po' di pezzi in gioco quindi diciamo che faccio questa mossa la torre non la posso spostare anzi no non la posso spostare mi mangeresti il cavallo con la regina attenzione cioè con la regina di solito un pezzo di fiesco lo mangi con la regina no perché se lo mangi con la regina chiaramente poi il tuo alfiere la mangia e vado a stare peggio ah beh certo c'ho l'alfiere qua che difende allora se c'ho l'alfiere che difende il cavallo posso spostare la torre e me la sposto qua che è libera ok il discorso è che io ho due pezzi che attaccano ok giusto ho l'alfiere in g7 e la donna in b6 quindi tu invece adesso avevi due pezzi che difendevano e adesso ne hai uno quindi io ho più pezzi che attaccano rispetto a quelli che difendono quindi adesso mi mangio il tuo cavallo e guadagno un altro pezzo io mangio il tuo ah giusto e poi tu mi mangi comunque il mio alfiere si io te lo devo mangiare per forza però diciamo che ok ormai sei sotto di una torre se guardi il materiale io ho una torre in più rispetto a te quindi comunque la posizione è compromessa ah in generale un consiglio che ti do importantissimo anche se ti sembra di stare in posizione super disperata non abbandonare mai ok questa è proprio fondamentale la prima cosa da sapere sugli scacchi che non bisogna mai abbandonare perché se abbandoni hai perso se non abbandoni ancora hai delle chance ovviamente di recuperare comunque questa tua regina mette in difficoltà i miei due pedoni si adesso è al centro della scacchiera proprio no? è una delle case centrali si mette in difficoltà i due pedoni e basta quindi non faccio niente cosa posso fare di utile di non niente posso spostare posso portare avanti un mio pedone diciamo potresti già difendere il pedonine 4 no che è attaccato questa potrebbe essere sicuramente un'idea lo difendo con la torre no lo difendo con la regina ok va bene così comunque hai difeso sicuramente hai difeso il pezzo il pedone scusami perché se no si metteva la torre tu me la mangiavi era difesa dalla donna era la regina che difendeva è giusto non ci ho pensato tu hai spostato il pedone ok sì ho fatto questa mossa perché perché voglio aprire la strada per le mie torri avendo io una torre di vantaggio e le torri comunque si muovono lungo le colonne e le traverse si apre una colonna cioè se rimuovo dei pedoni dalla scacchiera quindi rendo la scacchiera libera riesco ovviamente a sfruttarle meglio io però se ti mangio un pedone ah no tu mi mangi con un altro pedone io tu mangio con l'altro pedone tu mangio con la torre sì è un cambio alla pari diciamo però ovviamente avvantaggio a me perché così apro la strada per i miei pezzi certo ma io dirò cioè non si possa fare tanto però nel senso sì 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 io posso spostare avanti un mio pedone questo sì ok certo questo lo puoi fare oppure no potrei fare altro ti posso mangiare un pedone con la regina sì questo no scusami quello però è difeso dalla no è difeso dal mio pezzo è difeso se io mangio il tuo pedone con la regina te lo difendo la torre esatto e posso scambiare una regina con una torre sì senti allora io posso portare avanti un mio pedone il pedone in c4 lo posso portare avanti te lo mangio no alla fine lo mangi subito con la regina esatto diciamo che puoi cambiare i pedoni è abbastanza indifferente quello che succede giusto ti faccio vedere cosa succede quando prendi scaccumatto ma c'è nel senso recuperarla una torre in meno questo è impossibile senti vabbè io porto avanti porto avanti un un cazzo di pedone qua da da a2 ad a4 va bene ok fallo così ok ne approfitto così ti faccio vedere l'ampassano di cui abbiamo parlato l'ampassano quindi tu hai mosso un pedone di due case era nella casa di partenza adesso è affiancato al mio quindi posso mangiare abbassano se avessi aspettato una mossa non avrei potuto più farlo mi è pure apparso il pop up scopri questa mossa hai visto infatti è stato beccato sì 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 quindi non potevo farla in realtà vedi 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 diciamo non ti conveniva farla più che non potevi farla mi mangiò un pedone adesso non posso farci niente adesso se vedi tra l'altro questo pedone è vicino anche alla promozione quindi potrei portarlo a donna potrei mettere la mia donna ad a1 se metti la tua donna in a1 quello che succede se guardi bene cosa posso fare io se metti la donna in a1 in realtà non puoi fare niente perché tu certo mi puoi andare accanto al re la mia donna no che si trova me la mangia se la metti in a1 me la mangia esatto perché controlla la casa quindi io posso spostare di nuovo la torre qua davanti la mia regina intanto ha senso? non ha senso diciamo stai coordinando i pezzi ci può stare cioè è veramente difficile suggerire delle mosse cioè in queste posizioni quando stai così sotto è difficile certo con i principianti ci può stare dai va bene allora portiamola avanti va bene allora io facciamo così io cerco di vincere nel modo più indolore più veloce possibile sì sì così ho completamente ignorato la tua minaccia e ho detto vabbè la mia priorità adesso è portare a promozione il pedone perché se ottengo un'altra donna chiaramente ho troppo materiale in più quindi però io te la mangio subito la donna scusami eh sì però la mia donna come dicevamo prima difende la casa A1 no? quindi comunque rimane avanti allora li metto qua ok questa è una mossa sensata molto sensata ok quindi io posso fare questa adesso che giustamente così la mia donna non controlla più A1 giustissimo questa è un'ottima mossa che hai fatto posso andare a C così ti posso mangiare il pedone no perché tu mi ingeresti la donna poi tu dici mettere la torre in C4 no metto la mia regina in C1 ok ok facciamo così dai giochiamo appunto nel modo vabbè proviamo questo ah cazzo però tu mi diventi scusa una regina ah direttamente non posso userò una una cosa un po' più sofisticata però adesso ti faccio vedere cosa cosa hai in mente dopo che mangi la donna ok adesso la tua donna controlla la casa di promozione no? quindi io cosa faccio do scacco questa è la mia torre controlla la casa di promozione e soprattutto io devo muovere il re esatto in teoria potresti anche avresti potuto anche parlare di donna non ti sarebbe convenuto perché avresti perso la donna esatto adesso vado a donna e ti è diventato direttamente donna però si può scegliere poi il pezzo eh certo io non ti posso né mangiare la torre né mangiarti la donna no ti posso mangiare la donna sì puoi cambiare la donna assolutamente no? quello che succede è che poi io rimango con due torri esatto quindi rimango con due torri e sto comunque meglio tanto ho così tanto materiale in più che quello che mi conviene fare è mangiare più pezzi possibile più pezzi mangio rimango con due torri di vantaggio con due torri si può dare matto quindi adesso mi mangio la tua donna almeno la donna della tua mania ho fatto una strada sì avresti dovuto diciamo cambiarla anche se ormai comunque ora stai 19 punti più di me almeno sarresti stato 10 almeno senza donna eh ho fatto vabbè m'ho perso vabbè è andata ok adesso io ho un modo di dare scacco matto in una mossa puoi provare a pensarci magari come posso io dare scacco matto in una mossa ok io di base adesso non posso muovermi in un tutta una serie di caselle perché sì f1 e1 non ci posso andare vero e2 ci potrei andare allora sì se ci pensi anche g1 è una casa dove non puoi accedere corretto per la torre tempo per la torre sì quali si mossa che fai mi fai scacco matto praticamente cioè se mi vai sopra io non posso più muovermi se vado allora in realtà per dare scacco matto in una mossa ho solo una mossa che funziona cioè se vogliamo dare matto in una mossa dobbiamo essere precisi f3 allora se io metto la donna in f3 tu me la mangi quindi non è matto quindi dicevi le case sulla prima traversa sono tutte controllate dalla torre la terza traversa anche ok perché c'è la donna la seconda traversa invece è libera no cioè tu non c'è nessuno muove la torre metti la torre in b2 esatto nota che non metto la torre che si trova in d1 in d2 no 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 metti la torre che si trova in b7 in b8 esatto perché perché la torre che sta in d1 sta già diciamo mantenendo la prima traversa no quindi mi serviva un terzo pezzo un terzo pezzo per esatto eccoci qua ho capito beh cazzo complicato ok ok eccoci qua